L'Italia è il paese europeo con il più basso tasso di prelievo di legname dalle troppie foreste. La risorsa legnosa italiana è sottoutilizzata e mal utilizzata, un problema strutturale che danneggia lo sviluppo economico delle aree interne e montane del paese. È necessario adottare al più presto un modello italiano di sviluppo della bioeconomia puntando a costruire un sistema forestale fondato sulla servicultura di qualità, sulla gestione forestale sostenibile e sull'uso a cascata del materiale forestale.